Il numero 19, Antonio Duccio, intanto c'è la formazione ospite che è sicuramente a centimetri in più da far valere. Trova a dettare le regole per questo attacco, trova il passaggio per Pezzi, intanto fallo, combatte, al centro dell'area Paoletti trova lo scarico dentro, si torna ancora da Pezzi che è il più illuminato dei suoi in questo momento, trova lo scarico per il...riverso, trova lo scarico, Colotti fall, prova dalla media con l'aiuto paura, però non trova la retina, niente di godone per il numero 11, riverso già dall'altro lato, e trova il rimbalzo, 2,17 il chilometro, Corcelello prova, fallo, il tiro, che prova adesso a sfondare la difesa di Soverato, ci prova ora abito con la tripla, che non va, falla al rimbalzo, prova a far correre dei compagni in Cettuccio, già sotto canestro all'altro lato che realizza, poca costanza nelle percentuali per la botteghelle basket, intanto Tuccio dall'angolo, punisce, riceve fallo, trova lo scarico per Tuccio, che vuole prendere il ritmo, trova lo scarico per il riverso, che riceve ancora una volta il pallone, prova il giro da tre, non va, c'è però ancora, Billy fallo, arriva però questo capolavoro del compagno, Schiavone solo dai tre punti, sblocca il punteggio, falle chiama la palla, c'è la pressione, sempre più intensa Tuccio, riceve il passaggio da fallo, mettere un punto esclavativo sulla fase difensiva di Soverato, c'è un nuovo scarico per Tuccio che è entrato in ritmo, riverso, sfrutta il bocco di fallo, scarico per Maida, arresto, tiro di Marco Maia però, il lancio lungo per fallo che era rimasto solo, riceve fallo, Maida ha lasciato tutto solo dai tre punti, ci prova fallo, momento confusionario, Maida, qua, c'è Schiavone, Schiavone prova, se becco l'arresto e tiro, grandissimo rimbalzo, Maida da tre, grande canestro, pressato da Curciarello, però c'è Maida, ha lasciato un poco troppo solo in questa fase della partita, ma la venda, prova a tenere dentro il pallone, ma è un assist, per... Ma la venda da Mollica, Mollica finta il tiro, falle, stoppata, ancora una volta, si torna da Mollica e questa volta prova e tiro da tre, al numero dieci, riversata, appena entrato per la Botteghelle, trova il passato, sono bastate due triple consecutive della Botteghelle, intanto Pes, prova la tripla, la prende, ha... ...ide di non tirare, allora termina la prima partita di campionato di DR1, 69-58 per il nuovo basket soverato. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.